Andiamo a compilare la domanda di assegnazione provvisoria 2019-2020. Una volta entrati nelle istanze online, scendendo andiamo a ricercare la domanda di mobilità di organico di fatto del grado corrispettivo, c'è quello per l'infanzia ma c'è anche quello di secondo grado. Andiamo alla compilazione, una volta effettuato l'accesso alla compilazione andiamo e facciamo accedi per entrare nella pagina dove si inseriscono le domande, c'è l'inserimento della domanda di utilizzazione provinciale, l'inserimento della domanda di utilizzazione interprovinciale e l'inserimento della domanda dell'assegnazione provvisoria. Si sceglie la provincia, nel mio caso vado a inserire Reggio Calabria e compilo, in questo caso essendo io titolare a Reggio Calabria sarà una assegnazione provvisoria provinciale. C'è la sezione D delle precedenze, al punto 7 c'è la precedenza per i non vedenti, al punto 8 l'insegnante che usufrisce la precedenza degli emodializzati, al punto 9 abbiamo la precedenza che è riferita all'articolo 8,1 lettera D che è per la legge 104 articolo 21, al punto 10 invece per le gravi patologie e cure continuative, si deve scegliere la località, il comune dove c'è l'istituto di cura per cui uno deve seguire le cure continuative. continuando al punto 11 abbiamo la legge 104 articolo 33,6 riferito dunque alla gravità su se stesso per cui la domanda di assegnazione provvisoria deve andare al comune di residenza. il punto 12 A è riferito all'articolo 33,5 e 7 precedenza per il figlio, il 12 B invece per il coniuge o parte dell'unione civile, il punto 13 è riferito al genitore se si è figlio referente unico, dunque la precedenza per l'assistenza al genitore, il punto 14 A è la precedenza per i figli di età inferiore ai 6 anni, quello B invece per i figli compresi tra 6 e 12 anni ed è solo interprovinciale. Il punto 15 la N è riferito alla precedenza per assistere un parente o una fine entro il secondo grado oppure il terzo grado nel caso se il coniuge della persona handicappata o non esiste, cioè è mancante oppure è un coniuge che ha superato i 65 anni d'età. Poi il punto 16 si divide in A, B e C e D, il punto A è riferito al personale cessato dal collegamento fuori ruolo, il punto B al coniuge di un militare trasferito d'ufficio che abbia eletto il domicilio all'atto del congedo, il punto C si rifà alle cariche pubbliche nella pubblica amministrazione e il punto D è riferito all'aspettativa sindacale, poi c'è la sezione F riferita alle esigenze di famiglia per il ricongiungimento al coniuge, per esempio nel mio caso nel comune di Reggio Calabria e si acquisiscono anche 6 punti sul comune dove si chiede il ricongiungimento al proprio coniuge, poi c'è il punto 23 per i numeri di figli inferiori a 6 anni, il punto 24 per il numero dei figli di età compresa fra 6 e 18 anni, poi c'è la sezione G che va compilata solo se questa domanda fosse una domanda per altro grado di istruzione, ma siccome la titolarità nel tal caso e proprio in questo grado di istruzione non si compila. Poi c'è la sezione H per esempio, molto interessante e riferita ai titoli posseduti per il sostegno, nella fattispecie nella fattispecie vediamo i minorati della vista, il minorato dell'udito, i minorati psicofisici. Importante è sottolineare che quest'anno oltre la possibilità di indicare se si possiede il titolo di sostegno e dunque scegliere anche i titoli posseduti sul sostegno, è importante come si può vedere nella sezione I che oltre a indicare posti normali o posti di sostegno c'è anche la possibilità dei corsi serali o delle cattedre orarie esterne, cattedre tra scuole dello stesso comune o cattedre tra scuole su comuni diversi oppure se uno vuole un axolo o cattedre intere non fa nessuna selezione, ma dicevo la novità è il docente non in possesso del titolo di specializzazione, cioè coloro che hanno o in conclusione di un corso di specializzazione del sostegno, cioè hanno fatto almeno un anno di corso di sostegno oppure possono aver fatto almeno un anno di servizio sul sostegno e poi le classiche altre, gli allegati, le preferenze eccetera.